buona sera e benvenuti alla ciriaci questa è la serie a della lega calcio 8 quindicesima giornata l'ultima del girone di andata a sfidarsi questa sera saranno la pisana calcio 8 contro hammers fg consulting piccolo capitano verticalizzazione buona ammassari tenta il tiro e qui c'è il vantaggio della pisana con il numero 14 vantaggio che arriva all'ottavo minuto 1 a 0 parte mellaro ma con il destro di potenza de bernardo risponde ma staccare pasquali con ammassari c'è l'occasione per il numero 14 che non trova la porta occasionissima ma sai c'è l'occasione per il numero 9 che spreca anche questa occasione la prova difensiva di zito di tutta la retroguardia della pisana c'è l'occasione e la rete della 2 a 0 la pisana porta sul 2 a 0 pressing degli hammers passaggio sbagliato severini può concludere severina palla in mezzo per il compagno che spreca tutto incredibilmente pagliuca si gira il numero 14 tana l'ennesimo avanza pagliuca che lascia scorrere per il numero 5 che può concludere ma scegli invece il passaggio intelligente per il compagno e c'è la 3 a 0 per la pisana alla fine della primo tempo triplo avvantaggio buona la palla di conti punta diretto avversario serie di finte la palla in mezzo per il numero 5 e c'è il 4 a 0 subito in vantaggio per 4 a 0 la pisana primo minuto del secondo tempo sui piedi di severini mellaro conclude con il destro miracolo di de bernardo azio per gran palla per il numero 8 ammassari sguardo al centro palla dietro per piccolo occasionissima per la pisana conti scambio ravvicinato ancora numero 5 c'è l'occasione per conti prova il pallonetto pisana che può ripartire con conti scerrati conclusione dalla distanza euro gol per il 5 a 0 della pisana da rivedere e rivedere 5 a 0 corso preciso il suo rilancio per gallo conclusione di gallo vicino al 5 a 1 triplice fischio dell'arbitro 5 a 0 la pisana calcio 8 sugli ammers fg consulting 23 punti per la pisana calcio 8